Il nostro mago dell'impossibile è ancora qui al tavolo per un'altra magia. Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi ho preparato qualcosa di molto speciale per voi. Faremo una sorta di viaggio nel tempo. Ma prima di farciò ho qui un regolare mazzo di carte. 52 carte, il rosso e il nero come il bene e il male. 4 semi come 4 sono le stagioni. Se sommiamo tutti i punti delle carte, formano 365, ovvero come i giorni di un anno solare. Una cosa molto particolare. Matteo, c'è una carta che ti piace nel mazzo? Sì, l'asso di cuori. L'asso di cuori. Esattamente qui, guarda. Ho qui una penna. Vuoi cortesemente... L'amore, l'amore. Vuoi fare una firma? Bravo. Ora abbiamo reso questa carta unica, se vogliamo. E anche perché abbiamo dato anche un valore. Unica nel suo genere. Pezzo unico, raro. Ora fate molta attenzione a quello che andrò a fare, perché l'asso di cuori è la prima carta del mazzo. In questa busta ora ho una carta, il jolly. Colui che comanda ha tutte le regole e la metterò nella mia tasca. Ora, la tua carta firmata, la prima del mazzo, andrà dentro questa busta. Più o meno. E per andare a cose più interessanti, mescoleremo le carte di faccia e di dorso. In modo da creare completamente il caos, come il mazzo di carte, se vogliamo. Carte di faccia, carte di dorso contro dorso, faccia, faccia ancora, dorso. Completamente il caos. A questo punto, Matteo, inizieremo il nostro viaggio nel tempo. Quando vuoi, fermo. Stop. A questo punto? Esatto. Siamo tornati esattamente tre minuti. Che voi ci credete o no indietro nel tempo. Quando la tua carta era la prima, dici mal mazzo. Quando dentro la busta c'era semplicemente il jolly. E quando il caos è diventato ordine. Bravo. Bene. Si è giocato. Non ti sei ancora ripreso. Mi dovevo ancora un po' riprendere. Mattia, noi ti ringastiamo e rinnoviamo l'invito per venireci ancora un'altra volta. Grazie. Ci vediamo domani. 15 e 15 in diretta su San Marino RTV e in replica anche stasera alle 20 e 05. Non mancate domani 15 e 15. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Convention and Visitors Bureau. Repubblica di San Marino. Il tuo evento nella storia. Il tuo evento nella storia.